Dopo la decisione di Fratelli d'Italia, cooptato per commissariare il circolo di Giulianova in vista delle elezioni di fine maggio perché gli esponenti locali del partito della Meloni non erano d'accordo con la scelta di appoggiare Pietro Tribuiani, il candidato sindaco della Lega, l'ex coordinatore locale Paolo Vasanella ha depositato la lista che si chiamerà l'altra Giulianova, con il candidato Gianluca Grini. Dunque un centro-destra che si spacca ulteriormente, portando al momento a quota 3 il numero di candidati. Una linea che era già stata identificata nei giorni scorsi e che non c'è motivo di cambiare, è chiaro, forte il ramarico per il gesto così forte, quasi violento di un partito che impone la sua linea politica a prescindere dalla città, a prescindere dalle persone, a prescindere da tutto. Noi non eravamo d'accordo su questo eppure essendo uomini di partito avevamo chiesto di poter correre in solitudine con il simbolo del partito, non è stato concesso. Il coordinatore Paolo Vasanella è stato commissariato e si farà altro, chiaramente con le nostre idee, mantenendo ferma la barra diritta. Poi si dovrà solamente scegliere se correre da soli o correre in appoggio a un altro candidato del centro-destra, che in questo caso sarebbe Ivan Costantini. Quindi comunque l'unica certezza ad oggi è che voi non appoggerete ai Tribuiani? Sì, questa è una certezza che posso garantire per il semplice motivo che abbiamo fatto di tutto come prima partito e adesso gruppo per avere semplicemente un colloquio con lo staff dello Stato Maggiore della Lega Giuliese. Non ci è stato concesso, io non lo conosco il dottor Tribuiani come non conosco altri esponenti della Lega, non ho avuto modo di parlare di programmi, non ho avuto modo di parlare di prospettive, non ho avuto modo semplicemente di parlare. Voi mi capite che diventa difficile andare dai cittadini a Giulianova e dire votatemi perché mi hanno detto di dire che bisogna votare quello. Siamo nel 2020 quasi e mi pare che certi meccanismi a livello locale non esistano più, anzi sostanzialmente noi non ci crediamo.